Questo programma è offerto da Maribosima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribosima è in via Triunvirato 15-2 a Bologna. Buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dell'informazione di quiBologna.tv. Questo è il Tg delle ore 19 di oggi, lunedì 19 agosto. Andiamo a vedere le notizie che riguardano Bologna. Era prevedibile questa mattina qualche ralentamento sul tratto autostradale dell'A14, poco da segnalare invece sulla A1 in direzione Firenze e in ritorno da Firenze. E qualche disagio leggero anche nell'A13 in direzione Ferrara. Un traffico comunque nella norma con qualche rallentamento anche perché comunque in questi giorni i vacanzieri si sono molto dilazionati. Andiamo a vedere invece una notizia che riguarda le retribuzioni, i compensi di alcuni manager che ha voluto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Fra i bolognesi quello che risulta in testa a queste classifiche è Franco Bassanini, attuale presidente della Cassa dei Depositi e dei Prestiti, che risulta essere il vero paperone bolognese. Con i redditi, sono ovviamente quelli relativi al 2011, sono stati diffusi dal bollettino della Presidenza del Consiglio. Bassanini ha dichiarato 540.614 euro in immobili a New York. I bolognesi in questa classifica sono circa una ventina, tra questi anche Giada Grandi, segretario generale della Camera del Commercio e presidente dell'aeroporto Marconi. Disinventura ha lieto fine alla stazione di Bologna, forse causata dalla grande affluenza dei viaggiatori, tipica di queste giornate. Una mamma e la figlia di tre anni sono state protagoniste di un incidente. La mamma è salita sul treno e nel caricare i bagagli si è in qualche modo distratta e ha dimenticato la figlia sul primo binario, che è stata comunque accolta dalla Polferre e poi si è atteso il ritorno della mamma in stazione a Bologna. Andiamo a vedere invece altre notizie, questa volta che riguardano i biglietti dell'autobus, che finalmente si erano annunciati da tanto tempo. Da oggi è scattato fisicamente l'aumento dei ticket e dei biglietti, sia giornalieri che quelli per abbonamento. Un aumento che era stato in un primo tempo spostato, rinviato dal 1 agosto appunto il 19, sembrava addirittura non potesse essere effettuato e invece oggi è diventato effettivo. C'è molte Emilia Romagna e molto Bologna nelle province, nelle attività virtuose, che hanno dimostrato una grande fedeltà fiscale. A dirlo è stato il centro studi sintesi, in elaborazione con il Sole 24 ore, in testa appunto dalle province più fedeli si piazza Bologna, al pari merito con Milano. Nella top ten comunque troviamo altre province, Milano Romagnolo, come Follice Sena, Parma, Modena, insomma un risultato che rende onore a Bologna. E' tutto per oggi, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con quasi tutto esaurito a Villa delle Rose, dove Malandrino e Veronica all'interno del Talent Discount riproporanno un Rocky Horror Show. Grazie e vi do appuntamento a domani, vi auguro una buona serata. Questo programma è stato offerto da Mari Bosima, azienda con 40 anni di esperienza, specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Mari Bosima è in via Triunvirato 15-2 a Bologna. Grazie a tutti.